Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con l'informazione di VCO Notizie per aggiornarvi su quelli che sono i dati che arrivano da Torino relativamente all'emergenza sanitaria per il coronavirus. Allora non sono notizie incoraggianti purtroppo perché si deve registrare nella nostra regione un nuovo decesso. È successo all'ospedale di Cuneo, è morto un uomo di 68 anni che presentava un quadro clinico che i sanitari hanno definito compromesso, quindi aveva patologie pregresse. Con questo decesso sale complessivamente a 21 il numero dei morti in Piemonte, risultati positivi al coronavirus Covid-19. Solo nella mattinata di ieri l'unità di crisi va diffuso il dato relativo a quattro decessi, a questi se ne sono aggiunti tre nella serata di ieri e ora questo nuovo caso. Per quanto riguarda i contagi bisogna dire che a livello regionale in Piemonte ad oggi sono 501, vediamo di leggerli territorialmente questi dati. Partiamo da Torino che al momento registra 159 casi, poi Asti con 68, 105 se ne contano ad Alessandria, 36 a Biella, 17 a Cuneo. Salgono il numero dei positivi a Novara che hanno raggiunto oramai la soglia di 27 e il dato per quanto riguarda la nostra provincia è in leggero incremento, i dati ufficiali parlano di 13 positivi. I casi positivi provenienti da fuori regione ci dicono da Torino sono 19, mentre 33 sono ancora i casi in elaborazione e dunque non sono stati attribuiti territorialmente. Dunque quando arriverà l'esito di questi esami ci potrà essere un ritocco per alcune province. Vediamo quanti di queste persone sono al momento ricoverati in terapia intensiva perché hanno bisogno di assistenza nella respirazione, allora l'unità di crisi dice che sono 75. Al momento invece in Piemonte le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 86. Questa è la lettura nuda e cruda di quelli che sono i dati che rimbalzano dall'unità di crisi. Quindi allora il commento nella tarda serata di ieri dell'assessore regionale Icardi, l'assessore alla sanità a questi dati è questo. Ci aspettavamo una crescita di questi contagi negli ultimi giorni, dice Icardi, sono numeri maturati la scorsa settimana quando ancora non erano in atto le misure di contenimento rigide come invece sono scattate dalla fine settimana. Ci sono alcuni articoli di stampa che riportano la notizia che venerdì la regione, la regione Piemonte chiederà ufficialmente alle cliniche private la disponibilità di letti e reparti di rianimazione per non interrompere così le attività ordinarie. E poi c'è un altro dato che è arrivato sempre nella tarda serata di ieri, serata tardi, verso le 22. Perché? Perché il governatore del Piemonte dal suo isolamento ha fatto trapelare una notizia, quale che il Piemonte, qualora la Lombardia decidesse, e lo ha fatto ufficialmente pochi minuti fa, il governatore Fontana chiedesse al governo l'attuazione di misure ancora più stringenti, quindi un blocco sostanzialmente di tutti gli esercizi, a eccezione fatta dei generi alimentari e delle farmacie, anche il Piemonte sarebbe pronto ad adeguarsi a queste misure. Se il governo deciderà che la Lombardia farà questo passo, ha detto in un'intervista questa mattina a Cirio, credo che anche il Piemonte dovrà in qualche modo essere compreso. Se le parole del presidente Fontana, ha detto ancora a Cirio, vanno nella direzione di chiudere tutto, credo che a questa riflessione vada prestata molta attenzione. Per questo l'ho sottoposta all'unità di crisi, al Comitato Scientifico Regionale, per avere già oggi una parere che poi dovremo trasmettere al governo. È necessario, dice ancora Cirio, capire cosa vuol dire fermare tutto. Bar, negozi, ristoranti stanno già chiudendo fortunatamente di loro iniziativa, il problema è fermare le fabbriche e credo che le autorità nazionali competenti debbano fare una valutazione di merito. La Lombardia è la prima regione d'Italia per capacità e qualità produttiva in termini sanitari e ha avuto la sciagura di vivere per prima questa emergenza. Se dalla Lombardia in modo qualificato arriva questo monito, penso che sarebbe da irresponsabile non verificarlo e quantomeno non sottoporlo all'Istituto Superiore di Sanità e anche al Ministero della Sanità. Il governatore piemontese ha poi spiegato che dai dati epidemiologici del Piemonte risulta che è 7-8 giorni indietro la nostra regione rispetto a quanto accaduto in Lombardia. Con il problema che abbiamo noi, una popolazione più anziana, dice ancora Cirio, l'incidenza dei recovery in terapia intensiva è di 15 casi ogni 100, di 8 ai 10 una media nazionale. Significa che stiamo correndo più forte nella stessa direzione di una regione che ha vissuto per prima questa esperienza. Questo è quanto ha detto appunto questa mattina il governatore Cirio che sapete assieme all'assessore Tronzano sono risultati positivi al coronavirus e dunque da qualche giorno il governatore dal fine settimana, l'assessore da ieri si trovano in isolamento domiciliare. Poi ieri c'è stata anche una teleconferenza a livello regionale per affrontare questo problema. Si è tenuta in seno alla quarta commissione sanità della regione preseduta dal presidente Stecco. È stato fatto... Allora, cediamo la linea alla TV Svizzera per capire le notizie. Vediamo i titoli. Valichi minori chiusi in Ticino. La decisione comunicata questa mattina a Berna. Il traffico verrà convogliato solo su quelli più importanti a seguito dell'emergenza coronavirus. L'Italia intanto sblocca 25 miliardi di euro per lottare contro l'epidemia, la stessa cifra che intende stanziare l'Unione Europea per rilanciare l'economia. Joe Biden allunga su Bernie Sanders. L'ex vicepresidente americano vince le primarie democratiche in Michigan e in tre altri stati. È ormai lui il superfavorito. Le frontiere con l'Italia per il momento rimangono aperte, ma chiudono i valichi secondari. Questa è la decisione presa proprio poco fa a Berna dalle autorità. Il traffico tra Italia e Svizzera sarà incanalato solo attraverso le dogane principali e per questo per rendere più efficaci i controlli imposti dall'Italia, in particolare quelli che riguardano i frontalieri. Per svolgere i controlli alla frontiera in modo più efficiente e impiegare il nostro personale in modo mirato, è stato deciso di chiudere con effetto immediato nove posti di frontiera minori tra Italia e il canton Ticino. Il traffico sarà così canalizzato verso i valichi principali ed è lì che saranno svolti i controlli atti a stabilire che entrino in Svizzera solo le persone che ne hanno diritto. Non si tratta di una chiusura parziale dei confini, bensì di un provvedimento di natura tecnica per canalizzare il traffico. Abbiamo sentito dunque la decisione della chiusura dei valichi minori in Ticino. Fabio Storni, ci sono altre novità da Berna. Durante la conferenza stampa è stato comunicato qualcos'altro di importante? Sì, buongiorno. Penso che per quanto riguarda la Svizzera italiana quello della chiusura di nove valichi minori, fino a un nuovo avviso, è forse l'aspetto più importante. Lo avete detto, è stato sottolineato più volte anche qui, non è una chiusura parziale delle frontiere, è una misura per rendere più efficaci i controlli. Forse posso dirvi di quali valichi si tratta. Si tratta di Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano, Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto, Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone e Indemini. Il flusso di auto in entrata verso la Svizzera verrà quindi convogliato, verrà canalizzato verso i valichi più importanti, dove sono stati istituiti 83 posti di controllo, questi punti di monitoraggio di cui si parla da qualche giorno, punti gestiti dall'amministrazione federale delle dogane in collaborazione con la polizia cantonale ticinese. Se a questi punti di controllo una persona non dovesse riuscire a dimostrare di entrare in Svizzera per dei comprovati motivi professionali, beh, questa persona viene invitata a lasciare la Svizzera, solo invitata, perché al momento manca una base legale per ordinare a questa persona di lasciare il nostro Paese. Per quanto riguarda più in generale la situazione sanitaria, il caso di nuovi contagi da coronavirus è aumentato, ci sono oltre 150 casi in più rispetto a ieri, il totale è ora di 645, 120 dei quali in Ticino. Il numero di decessi è rimasto immutato ed è fermo a tre. Per quanto riguarda brevemente gli aspetti economici, la SECO ha detto che riduce il tempo di preavviso per la richiesta delle indennità di lavoro ridotto da 10 giorni a 3 e a quanto pare sono già tante, tantissime le ditte che hanno fatto queste richieste. Infine, un'ultima segnalazione per quanto riguarda il mondo sanitario. Di nuovo è stato lanciato l'appello, l'invito alla popolazione per chi non facesse parte di un gruppo a rischio, quindi persone che non hanno ancora 65 anni, che non soffrono di malattie croniche, respiratorie o cardiache, anche in caso di sintomi influenzali, non andare negli ospedali, non andare dal medico, si rischierebbe di sovraccare, sovraccaricare tutte le strutture. Questo è quanto è stato detto poco fa in conferenza stampa qui a Berna, ma l'attualità continuerà a cambiare. Nel pomeriggio è atteso anche un incontro fra la deputazione ticinese alle Camere federali e una delegazione del Consiglio federale per valutare proprio la situazione legata al canton ticino per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. A voi. Grazie Fabio Storni, in diretta con noi da Berna. Da Bellinzona la questione coronavirus è al centro, proprio in questo momento di un incontro tra il governo ticinese e Daniel Koch, il responsabile della divisione malattie trasmissibili di Berna. Sono qui per parlare con le autorità cantonali, ha detto poco prima dell'incontro. Nel pomeriggio dunque potrebbero esserci decisioni importanti riguardo al canton ticino. Intanto alla frontiera, in territorio italiano, i controlli delle forze dell'ordine stanno provocando colonne chilometriche e lunghi tempi d'attesa. Da questa mattina infatti in Dogana vengono effettuati controlli a tappeto di tutti i mezzi e dei frontalieri che dalla Lombardia si dirigono verso il Ticino. Controlli puntuali sia da parte delle autorità italiane che da quelle svizzere. Ieri sera in territorio italiano, verso Chiasso, le colonne hanno superato i sei chilometri. Per quanto riguarda la situazione del contagio in Svizzera, abbiamo sentito anche poco fa dal nostro corrispondente a Berna, partiamo dal Ticino dove stando ai dati proprio di questa mattina i casi confermati sono 128. In tutto il paese per ora i casi sono saliti a 645. Rispetto a ieri in Svizzera si sono aggiunte dunque oltre 150 persone contagiate dal virus. I contagi interessano ora 23 cantoni con il Ticino come regione più toccata. I casi positivi nei grigioni sono 23, la maggior parte dei quali in Alta Engadina. I decessi per ora rimangono tre, uno dei quali in Ticino. Andiamo adesso in Italia dove poco fa è finito un consiglio dei ministri straordinario in cui sono state prese delle nuove decisioni per contrastare l'emergenza. Lorenzo Buccella, che cosa è stato detto? Buongiorno, dopo questa riunione del Consiglio dei Ministri sono emerse due decisioni importanti, una sul fronte economico, l'altra sul fronte sanitario. Sul fronte economico l'Italia ha deciso di triplicare gli stanziamenti per far fronte a questa situazione d'emergenza straordinaria che vive il paese, non più 7,5 miliardi e bensì 25 miliardi, una parte da spendere subito, un'altra che andrà a supporto delle misure ancora da definire. Si tratta quindi di uno sforamento nel bilancio che ovviamente coinvolge anche direttamente a questo punto l'Europa, anzi che arriva proprio in virtù anche delle aperture che sono arrivate da Bruxelles nell'ultimo periodo, nelle ultime ore. Ma c'è anche una questione importante a livello sanitario dopo la richiesta fatta ieri dalla Lombardia di restringere ulteriormente le norme anticontagio sul proprio territorio, ebbene Conte ha detto se arrivano richieste formali dalle regioni noi siamo aperti a valutarle, a venire incontro a queste difficoltà che si respirano in alcune zone del paese e proprio poco fa è arrivata subito un'altra reazione del governatore della Lombardia, che in sostanza a Tiglio Fontana, che ha detto noi abbiamo già inviato tutto il materiale, i documenti a Roma e quindi ovviamente a questo punto, nelle prossime ore potremmo aspettarci delle novità su questo fronte ricordiamo solo che la Lombardia aveva chiesto una sorta di coprifuoco per 15 giorni cioè una sorta di chiusura totale degli uffici dei negozi, a parte quello dei generi alimentari e delle farmacie, anche una riduzione ai minimi termini dei servizi di trasporto ovviamente misure che potrebbero avere anche ripercussioni sulla Svizzera italiana Grazie Lorenzo Buccella per gli ultimi aggiornamenti da Roma L'emergenza coronavirus è stata affrontata ieri sera anche dai leader dell'Unione Europea che si sono riuniti in videoconferenza L'obiettivo? Avere un approccio comune e coordinato Intanto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha annunciato un fondo da 25 miliardi di euro per affrontare le conseguenze economiche del virus Utilizzeremo tutti i mezzi a nostra disposizione affinché l'economia europea possa affrontare questa tempesta ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al termine della riunione in videoconferenza con i leader europei una prima nella storia dell'UE che sottolinea la gravità della situazione Intendiamo creare un fondo da 25 miliardi di euro proporrò al Consiglio e al Parlamento questa settimana di liberare subito 7 miliardi e mezzo di liquidità che spero possano arrivare agli Stati membri nelle prossime settimane Attenzione particolare sarà data ai sistemi sanitari alle piccole imprese e al mercato del lavoro e anche la BCE metterà in campo tutti gli strumenti disponibili tra cui liquidità e finanziamenti a basso costo Nessuna decisione comune invece sul ripristino dei controlli alle frontiere dopo che Slovenia e Austria hanno deciso autonomamente di chiudere i loro confini con l'Italia una misura respinta categoricamente dal presidente francese Macron Dobbiamo prendere misure proporzionate alla situazione perché sono misure con cui dovremo convivere per un po' di tempo la coordinazione europea è molto più efficace le misure di quarantena nelle varie regioni colpite dal virus sono più efficaci la responsabilizzazione delle persone malate è più efficace dopo Italia e Spagna la Francia è il paese più colpito dal virus in Europa con 33 morti e oltre 1700 casi confermati tra cui anche due stretti collaboratori del presidente e anche Angela Merkel per lei chiudere le frontiere non è una misura adeguata per contenere la diffusione del coronavirus lo ha detto la cancelliera tedesca poco fa quando ha informato la Germania su come il paese si deve preparare per affrontare il virus fino al 70% della popolazione sarà infettata ha detto Angela Merkel ma la cancelliera ha anche lanciato un appello l'Europa non si deve isolare ma deve combattere unita intanto le autorità tedesche hanno annunciato il loro terzo morto per coronavirus anche per il ministro della salute il paese è all'inizio dell'epidemia concretamente però la Germania non ha per il momento introdotto alcun divieto negli Stati Uniti continua il momento magico di Joe Biden l'ex vicepresidente ha infatti stravinto quattro delle sei primarie tenutesi ieri rientriamo in studio allora abbiamo visto ci sono novità anche dal fronte svizzero per quanto riguarda l'ingresso dei frontalieri nel Ticino è bene dire subito che queste misure di restrizione con la chiusura di valichi minori non interessa il verbano Cusiosto l'avete sentito il collegamento da Berna non citava né il valico di Piaggio Valmara dunque lungo la strada internazionale del Lago Maggiore tanto meno Ponte Ribellasca il valico che collega la Valle Vigezzo al canton Ticino dunque almeno per il momento nessuna restrizione per i nostri frontalieri la situazione rimane immutata anche se avete sentito che nel pomeriggio il governo federale svizzero incontrerà una delegazione di deputati ticinesi per fare il punto e valutare eventuali misure restrittive per questo cantone ovviamente qualora ci fossero delle novità saremo sempre pronti ad aggiornarvi e intanto i comuni a livello locale per affronteggiare questa emergenza si organizzano per dare sostegno a quelle che sono le fasce più deboli della popolazione dunque il Comune di Verbania ha attivato un servizio di consegna medicinale in via sperimentale con la farmacia comunale la consegna dei farmaci avverrà nei giorni di lunedì e giovedì dalle 8 alle 12 e 30 gli ordini per telefono devono essere effettuati dalle 8 alle 9 sempre lunedì e giovedì al numero 0-3-2-3-54-24-88 ripetiamo 0-3-2-3-54-24-88 a consegnare le medicine saranno volontari formati AIB provinciale volontari che riceveranno la ricetta si informeranno se il prodotto è disponibile faranno poi la consegna dei medicinali a domicilio mantenendo ovviamente come previsto dalle norme in atto la distanza di sicurezza dunque questo è un altro servizio messo a disposizione delle persone più anziane più in difficoltà in questo senso si sta organizzando anche il comune di Premosello Chiovenda che sempre coinvolgendo i volontari della protezione civile della Croce Rossa delegazione ovviamente di Premosello Chiovenda a partire da domani 12 marzo organizza un servizio di spesa a domicilio a favore degli anziani over 70 e delle persone in difficoltà magari perché sono in quarantena a causa proprio del coronavirus anche in questo caso c'è una mail da contattare info coronaviruschiocciolacomune.premosello.vb.it oppure si possono comporre i numeri 0324 88191 il cellulare 347 29 04 710 gli acquisti potranno avvenire nei due negozi del territorio comunale i cittadini che vorranno usufruire di questo servizio dovranno prenotare la spesa entro le 9.30 di ogni giorno e poi questa verrà consegnata entro le 11.15 del giorno stesso da Verbania ci sono anche disposizioni per quanto riguarda il canile allora a seguito delle disposizioni a Asla VCO con oggetto emergenza coronavirus la struttura del canile municipale di Verbania rimane chiusa sino a data da destinarsi l'accesso è consentito ai soli volontari già individuati da segnalarsi all'Asla le modalità saranno questa una durata di 30 minuti con il percorso nell'area antistante al canile di vieto di accesso alle strade pubbliche poi anche le poste sollecitate molto anche in queste ultime giornate dal mondo sindacale hanno deciso a livello territoriale di attuare qualche provvedimento proprio per l'emergenza coronavirus nella giornata di oggi Pallanza e Intra hanno deciso di stoppare le operazioni alle 13.45 queste sono le notizie appunto arrivate dal fronte degli uffici postali anche se nei giorni scorsi proprio il mondo sindacale aveva preso proprio posizione contro l'azienda perché il sindacato denuncia non ha preso provvedimenti anche a seguito di quelle che sono state le restrizioni imposte con il decreto della fine settimana dalla Premier Conte e poi un'ultima notizia che arriva questa volta dal comune di Novara Novara è provincia che vi abbiamo detto vede aumentare i casi di contagio è arrivata a 27 casi ebbene il comune di Novara ha deciso di affrontare l'emergenza coronavirus anche con una pulizia e una sanificazione straordinaria delle strade l'attività verrà fatta anche nelle vie cosiddette lotti B cioè lungo strade secondarie della città un servizio che abbiamo voluto fortemente ha spiegato il sindaco Canelli anche per quelle vie e strade che solitamente nel normale svolgimento dell'attività di pulizia non sempre vengono interessate poi in particolare momento la diminuzione del traffico e di mezzi in circolazione ovviamente aiuterà anche questa operazione che dovrebbe avere una maggiore efficacia che cosa resta da dire? resta da dire che a livello nazionale si sta discutendo appunto sulla eventualità di chiudere gli esercizi pubblici beh vi diciamo che a livello locale molti lo hanno fatto in maniera spontanea sono davvero tanti i bar, i negozi e non solo Omegna Omegna ieri lo ha annunciato in maniera ufficiale ma un po' ovunque che hanno deciso di allinearsi su questa posizione molti cartelli affissi nelle vetrine dei negozi e delle attività commerciali per dire io resto a casa che poi è lo slogan che caratterizza tutta questa emergenza per evitare che cosa? evitare il contagio e dunque cercare di proteggere quelle fasce che al momento risultano essere più deboli e più facilmente raggiungibili dal virus in chiusura io vi darei un riepilogo di quelli che sono gli ultimi dati arrivati nella giornata di oggi dall'unità di crisi istituita a Torino allora vi devo dire che in Piemonte nelle ultime ore si è registrato un nuovo decesso è quello di un uomo di cuneo dall'età di 68 anni i sanitari commentando la notizia hanno detto che il paziente presentava già un quadro clinico fortemente compromesso con questa morte sale a 21 il bilancio dei morti in Piemonte risultati positivi al coronavirus covid-19 per quanto riguarda i contagi complessivamente sul nostro territorio si registrano 501 contagi la lettura territoriale di questo dato che cosa dice dice che a Torino sono 159 ad Asti 68 105 ad Alessandria 36 a Biella 17 a Cuneo 27 a Novara e 13 nel Verbano Cusiossole ancora 24 a Vercelli i casi positivi provenienti da fuori regione sono 19 mentre 33 casi sono ancora in fase di definizione elaborazione e dunque anche di attribuzione territoriale quindi nella bollettina serale potrebbe esserci un discostamento rispetto a questi dati con un possibile incremento per alcune province l'ultimo dato riguarda la terapia intensiva di questi 501 pazienti contagiati ben 75 sono ricoverati in strutture della nostra regione in strutture di terapia intensiva mentre 86 al momento sono le persone che risultano essere in isolamento domiciliare fiduciario io non ho altre notizie quindi l'unica raccomandazione è di tenervi aggiornati con i nostri canali social e poi il nostro sito vcazzurratv.it grazie naturalmente per essere stati con noi vi lascio ai programmi della rete buon proseguimento ciao a tutti sono Elisa Longoborghini e con gli altri atleti del VCO vorrei mandarvi un messaggio chiaro e molto semplice insieme possiamo battere questo virus però è importante attenersi alle regole che il nostro governo ci ha dato restiamo a casa e cerchiamo di uscire solamente quando è strettamente necessario è un modo un po' particolare e strano di fare squadra però in questo momento la strategia migliore quindi restiamo a casa con il pensiero rivolto a quelle che sono le persone più deboli i nostri nonni i nostri zii i nostri genitori insieme ce la facciamo